al nocciolo della persona le varie teorie psicologiche nel corso dei secoli hanno portato degli elementi nuovi ma nessuna è arrivata al perché dei problemi delle persone perché commento perché nessuna di queste teorie ha una visione totale dell'individuo le discipline di tipo orientale come la meditazione che apparentemente sembra che vadano più al nocciolo della persona non sono complete neanche loro perché alla fine trascurano la parte fisica